Forse non tutti, ma in molti lo sanno, Bolzano vanta due centri commerciali naturali, il Foriù nel quadrilatero di via Milano, via Torino, via Dalmazia e via Palermo e l'In Corso in Corso Libertà, nati negli ultimi tre anni con l'obiettivo di proporre e coordinare eventi e manifestazioni per vivacizzare le due zone e cercare di mantenere in vita attività commerciali altrimenti a serio rischio o quantomeno scarsamente visibili. Iniziative che, a quanto pare, risultano gradite ai Bolzanini. Lo rivela un'indagine condotta nel dicembre scorso con un campione di circa 1.400 persone. Per quanto riguarda Foriù è di particolare interesse l'alta quota di conoscenza dell'associazione pari al 68%, nonché delle attività promosse pari al 70%, le quali piacciono molto al 61% degli intervistati. In Corso Libertà il 51% degli intervistati conosce l'associazione in corso. Esperimenti dunque riusciti, ma come si conciliano con la volontà del Comune di agevolare la realizzazione di grandi centri commerciali? Chiaramente il mercato e le liberalizzazioni, al di là del progetto Benco, porterà assolutamente anche la nascita di centri commerciali. E quindi queste sono delle realtà con le quali si deve convivere. Ma il commercio di vicinato è altro, è il rapporto che si instaura tra il cittadino e l'abitante del quartiere con il proprio commerciante. È lì che noi dobbiamo intervenire, promuovere queste iniziative e fare sì che si leghi sempre di più il commercio di vicinato con il quartiere in cui è insediato. Intanto i promotori dei due centri commerciali naturali, Bolzanini, guardano al futuro a breve termine con una serie di interessanti progetti. Sviluppare l'Infopoint ha il meglio delle sue potenzialità, quindi poter dare ai residenti un servizio di informazione sempre migliore, ma anche delle attività che possano dare ancora più vita al quartiere. Il prossimo progetto è comunque Open 2015, quindi il 19 settembre, nuovamente la festa che coinvolgerà tutte e quattro le vie e tutto 4U, che è molto impegnativa da parte nostra. Abbiamo progetto una Notte Verde in collaborazione con Festival delle Resistenze, quindi comunque dei percorsi dove cultura e commercio concretamente cominciano a fondersi. Abbiamo in mente moltissimi laboratori per i bambini perché ce li richiedono. Grazie. Grazie.